Bene, benvenuti a tutti, buonasera a tutti e benvenuta a Petra che arriva dalla parte opposta delle Alpi. Siamo al terzo incontro della rassegna incordata, ci hanno preceduto Leonardo Caffo con la presentazione del suo libro sull'Etna, sul vulcano e poi Hervé Barmas con il suo libro sul Cervino e adesso siamo qui per parlare con Petra Cola che è autrice di questo libro molto molto particolare, speciale. Intanto com'è andato l'avvicinamento dall'Alto Adige al Piemonte? Andato bene. Senti, io vorrei iniziare subito, abbiamo, ci sono anche delle immagini, vero che poi andranno, vorrei iniziare subito chiedendoti, avete visto che il libro si intitola La Maestra Silenziosa? Allora, ricordo che, dimmi Eleonora, ricordo che quando vedi per la prima volta in libreria il tuo libro mi chiesi ma sarà lei la Maestra Silenziosa o chi? Svelaci il titolo innanzitutto. Bella domanda, infatti tantissimi hanno pensato che La Maestra Silenziosa fosse io, invece assolutamente no. La Maestra Silenziosa si riferisce alla montagna, a questa Maestra Silenziosa ma sempre presente nella mia vita, mi ha aiutato a superare momenti difficili della mia vita ma anche a capire come superarli e quindi capendo che con l'audacia, con la forza, con l'andare avanti, riuscivo alla fine a superare i grandi, grandi limiti che la vita mi poneva. E quindi, vabbè, nel libro, soprattutto nel primo capitolo, racconto un po' la mia storia. Sono cresciuta in una famiglia numerosa, siamo una famiglia di sette e lì ho anche un po' imparato a convivere con i fratelli, quindi anche a prepararmi lo zaino e proprio all'età... Quanti ne avevi quando hai iniziato ad andare in montagna? Ci sono delle fotografie, quando avevo due anni, già a raggiungere la prima cimetta dietro casa, infatti mi ricordo proprio mia nonna preoccupata che andava da mia mamma, ma cosa fai, cosa li porti a quell'età, poverini, i miei nipoti, invece mia mamma è sempre stata molto convinta di questa educazione che per raggiungere lo scopo bisogna fare fatica, bisogna prepararsi questo zaino, ovviamente all'età di due anni non è che mi preparavo lo zaino, però verso i quattro già ci sono le fotografie con lo zaino in spalla e si pedala. Quindi appunto questa fatica ha sempre fatto parte della mia vita e della crescita appunto che i miei genitori hanno deciso per farci crescere insomma. Sì però mi ha colpito che quando racconti, quando racconti della tua, di tutti questi tuoi anni iniziali in famiglia, lei tra l'altro sei la femmina di tre gemelli, giusto? Esatto, con di genita, brutta parola. Quindi hai dovuto subito iniziare a, non dico a competere, però comunque a porti su un piano perlomeno di parità con loro. Ma quello che, cioè dal tuo racconto in realtà adesso tu parli di sofferenza, però in realtà c'è una grande gioia, cioè ne parli sempre in modo estremamente positivo. Sì esatto, quando parlo di sofferenza mi riferisco ovviamente alla fatica. Mi ricordo proprio questi momenti quando ero bambina, che la fatica un bambino la vede come una cosa negativa. Infatti ovviamente mia mamma mi racconta che c'erano tanti pianti e non volevamo andare, volevamo stare a casa, soprattutto nell'età un po' adolescenziale. Mi ricordo che appunto mia mamma arrivava in stanza, ci tirava su queste tapparelle all'alba. Dai ragazzi si va in montagna, su, hop, fate gli zaini e si parte. E invece i miei coetanei non facevano queste cose e quindi un po' la vivevo con questa sofferenza. Perché io devo fare questa fatica la domenica e tutti gli altri invece dormono, no? Però con gli anni poi ho capito che è stata un'educazione assolutamente che mi ha solo dato. Mi ricordo questi momenti all'elementare soprattutto, il lunedì mattina quando i miei compagni di classe tornavano con tanti oggetti nuovi, magari comprati il giorno prima. In qualche centro commerciale. Esatto. E invece io non avevo niente, avevo il classico astuccio, una penna. Però dentro di me in realtà mi sono rimaste le esperienze, quei momenti proprio di fatica per raggiungere la cima. Ma mi ricordo anche, soprattutto all'età appunto di 4-5 anni, che all'inizio piangevo proprio fino alla fine. Ma poi una volta arrivata in cima sentivo questa forza dentro indescrivibile. Da lì pian piano ho capito che tutta quella fatica aveva un senso. E poi ovviamente negli anni un po' l'ho maturata anche questa... Ma infatti com'è stato questo percorso? Cioè da questo senso di fatica, di ribellione eccetera, che cosa è che ti ha fatto fare il salto per sentire qualcosa di diverso? In realtà mi è sempre piaciuta questo modo di vivere. Solo che ovviamente tutto quello che mi diceva di fare mia mamma, la classica adolescente, No, io voglio fare qualcos'altro. Però appunto l'ho capito un po' dopo, verso il liceo, soprattutto con la perdita di un genitore, di mio padre. E da lì la montagna è stata veramente... È stato il luogo dove ho ritrovato la forza di andare avanti. E quindi appunto lì trovavo... Mi ricordo proprio questi momenti di dolore in cui prendevo da sola e andavo a farmi una corsa per raggiungere queste cime di casa. E una volta arrivata su mi sentivo così leggera e così bene con me stessa. Che dicevo, cavoli, due ore prima stavo malissimo, proprio avevo questo dolore dentro. E una volta arrivata su, anche se ero da sola, mi sentivo leggera, mi sentivo bene. E quindi è stata come una specie di, se vogliamo dire, droga. Cioè ho continuato a... È stata una medicina forse. E quindi non ho più smesso assolutamente di fare questo. E tuttora dico agli altri di fare la stessa cosa perché dico, se ha fatto del bene a me, lo può fare anche agli altri, no? E quindi questo percorso assolutamente... Penso che sia il percorso più bello che ci sia. Lo può fare chiunque ed è lì per tutti. E infatti nel tuo libro c'è molto questa apertura verso tutti. Non è un libro, non vi aspettate un libro per iniziati, no? Per frequentatori un po' fissati della montagna. Proprio, lo ripeti spessissimo, questo di dire la montagna è veramente accessibile a chiunque a seconda delle proprie capacità. E il concetto di limite ritorna spesso. Raccontaci un po' che cosa intendi. Sì, il concetto di limite secondo me lo si capisce ovviamente frequentando la montagna, conoscendosi e quindi conoscendo anche i propri limiti. Perché alla fine ho anche citato appunto Tamara Lunger che è un'alpinista appunto di casa che lei prima di raggiungere la vetta rinuncia. E questo suo gesto mi ha colpita moltissimo. Infatti per me questo è proprio il senso di andare in montagna secondo me. perché lei probabilmente, cioè forse le donne hanno un po' questo istinto, no? Di dire ok, se vado fino a su forse rischio, forse non torno neanche a casa. Quindi ok, arrivare su in cima potrei magari diventare un'icona femminile per il mondo. Ma lei invece ha optato per la vita e questo per me è... Precisa anche dove si trovava. Nanga Parbat. Sì. Esatto. Si trovava al Nanga Parbat in inverno a 70 metri dalla cima. Esatto. Deciso di... Lei è rimasta appunto a 100 metri dalla cima mentre Simone è salito fino su. Simone Moro e gli altri suoi compagni, sì. E per me questo è un atteggiamento... Responsabile, no? Molto... Sì, sì, di carattere ecco, un carattere forte. Tu la conosci Tamara Lunger? È la mia vicina di casa. È la tua vicina di casa. Sei andata in montagna con lei qualche volta? No, no. Non ancora. Senti, allora tu hai fatto dunque quindi questo percorso formativo, cioè questa scuola alla montagna che ti è arrivata attraverso la tua famiglia, i tuoi fratelli e poi quando è che ti sei invece emancipata da loro e come hai impostato, come si è venuta a configurare la montagna nel momento in cui tu sei cresciuta, sei diventata una persona adulta, uscita dalla famiglia, sbocciata e hai fatto della montagna anche il tuo lavoro in parte, no? In realtà i miei fratelli tuttora fanno parte un po' delle mie camminate e appunto nel libro racconto, inizio a raccontare proprio queste cime raggiunte con i miei fratelli appunto ricollegandomi al discorso, sono una gemella, già in pancia c'è la competizione con i miei due fratelli maschi, sono andata a scuola con loro due, ci ha fatto tutto un percorso insieme ai miei fratelli e sport, quindi proprio facevo tutto insieme a loro due e in qualche modo dovevo tirar fuori il carattere perché loro due ovviamente erano più forti di me, in questo caso ad atletica, erano più veloci e erano più forti, ma questo non mi ha mai limitato a dire ma cavoli se loro fanno queste cose le posso fare anche io, chi se ne frega se loro sono più veloci o ci mettono di meno, no? E la montagna un po' ti insegna e ti aiuta anche ad accettare il fatto che sei più lenta, ma sulla cima ci si arriva insieme perché la vista, quella vista è una vista, è un regalo per tutti, quindi non è una gara la montagna in questo caso, è semplicemente una gara con se stessi, arrivare su e premiarsi insomma, quindi alla fine il limite è dentro di noi e non è assolutamente perché lui è un uomo e io sono una donna, allora non posso farlo, però questo forse io sono stata fortunata perché appunto nella mia famiglia non 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 è mai stato un problema questo, il fatto che io ero una donna e i miei fratelli erano due maschi, anzi mi ha semplicemente tirato fuori il carattere e ancora adesso sono così, cioè voglio dimostrare a me stessa che lo so fare anche io, che lo posso fare anche io, anche con altri ritmi, ma questo non è un problema mio. Però è comunque un tema che ti appassiona, tant'è vero che un capitolo l'hai dedicato proprio alla donna, no? In che modo ti tocca? Esatto, il capitolo della donna in realtà all'inizio non era proprio una tematica che volevo inserire nel libro, ma sempre più spesso ricevevo domande ma come fai ad andare in montagna da sola? Sei una donna, ma ce la fai? Sei forte come gli altri? E quindi da lì ho iniziato a pensare ma perché mi continuano a fare queste domande? Perché nella mia vita non esistevano questi dubbi, perché ero appunto cresciuta in un ambiente stimolante dove non esisteva la differenza tra uomo e donna. E quindi sono anche andata un po' a fare ricerche in generale, soprattutto della montagna e in effetti le donne una volta non potevano andare in montagna così in modo, diciamo, libero e devono stare a casa ad accodire i figli. Quindi queste storie mi hanno un po' anche rattristita e infatti nel libro le ho volute inserire. Però il mio libro è proprio un invito soprattutto alle donne di andare in montagna perché la montagna è per tutti e quindi soprattutto dal titolo l'ho voluto proprio mettere in copertina proprio per questo perché la montagna è per tutti e non c'è distinzione ecco. Però la montagna è un terreno comunque che pone, cioè che ha degli ostacoli, no? Da un certo punto di vista. Quindi è per tutti però, è per tutti sempre che si formino a superare questi ostacoli, a padroneggiare il terreno su cui devono misurarsi. E tu parli anche molto della capacità di distinguere fra superfluo ed essenziale. Sono due parole che ritornano molto spesso nel tuo libro. Sì esatto. La montagna non è per tutti, nel senso che la montagna è per chi vuole conoscerla. è pericolosa la montagna, non è andare lì, anche se si va a fare una passeggiata semplice, perché spesso la gente ragiona così, ma sì oggi vado a farmi una passeggiata qua dietro, conosco questo sentiero benissimo, vado con le scarpe da ginnastica, una felpina e bom. In realtà la montagna è pericolosa e bisogna avere un minimo di preparazione. Infatti è per questo che dico, bisogna andare, buttarsi, scoprirla. Soprattutto le montagne di casa, anche qua vicino a Torino ci sono un sacco di montagne. Io non ho ancora avuto la possibilità di conoscerle, però se vivessi qui la prima cosa che mi verrebbe in mente sarebbe di testare il terreno, conoscere appunto che cosa c'è qua intorno. Non è che, visto che a casa mia raggiungo determinate cime, allora arrivo qua e vado subito a raggiungere la cima più alta. No, devo prima conoscere il luogo, studiare, studiare la storia soprattutto del luogo e poi appunto iniziare a organizzare magari una cima di questa zona, insomma. Quindi c'è una preparazione, ecco. Non voglio intimorire neanche le persone a dire questo perché magari tanti dicono, allora è meglio che non ci vada. Invece no, assolutamente. La preparazione non è una cosa negativa, anzi è il conoscere conoscere meglio il posto in cui si vuole andare e quindi essere anche più sicuri una volta arrivati lì. No, ma non credo che sia, penso che sia necessario comunque mettere in guardia su quelli che sono i pericoli oggettivi, anche perché con il grande progresso sul piano dei materiali che è stato fatto e delle attrezzature c'è la sensazione di essere un po' invulnerabili, no? Io vado in montagna, sono protetto, sono vestito a modo e quindi non mi può succedere niente, invece questo non è assolutamente vero. Infatti un'altra dei leitmotiv che trovavo era il tuo incitamento a sentire il proprio corpo, a monitorare come si sta man mano che si va, che si fa una gita, che si fa un'escursione, ma tu sei più per le grandi cime o per le pareti di roccia, visto che arrivi dal regno dolomitico? È una domanda che mi pongono in tanti, anche e soprattutto sui social. Io rispondo sempre io non ho bisogno di andare tanto in alto e di dimostrare niente a nessuno. Io sono felice di raggiungere le cime di casa e solo nella mia zona alto adige ce ne sono di cime, non riuscirò neanche a farle tutte in tutta la mia vita, quindi il bello è proprio questo. Il mio obiettivo è raggiungere le cime di casa e anche scoprire magari altre cime, non è che viene solo l'alto adige. Fino alla fine dei miei giorni, questo sarebbe il sogno più grande, non so adesso a che età arriverò, però raggiungere fino all'ultima cima, ecco, questo sarebbe per me la cosa più bella. E continuare ad emozionarmi come la prima volta, perché alcune volte, visto che è diventato anche il mio lavoro, ho paura un po' che svanisca questa sensazione una volta arrivati su... e invece è ancora come prima. Hai detto, visto che è diventato il mio lavoro, raccontaci che cos'è il tuo lavoro in montagna oggi. Allora faccio una domanda qua, chi è che mi segue sui social? Tirati sulla mano. Sì, esatto, io lavoro tramite i social e sui social comunico un po' questa mia passione, mostrando un po' i luoghi di casa, i miei viaggi e poi ho iniziato un po' per divertimento, penso come tutti. Poi sono arrivati i primi sponsor, le prime collaborazioni e da lì proprio è diventato un lavoro a tutti gli effetti e non ho mai smesso appunto di essere me stessa. Il bello di questo lavoro è che sono riuscita a fare della mia passione, quella che proprio scrivo nel mio libro, un lavoro. Quindi la mia routine, che una volta era magari solo il fine settimana perché appunto andavo a scuola, ora è diventato un lavoro quasi di tutti i giorni, no? E la mia grande, secondo me una grande difficoltà e soprattutto sui social è trasmettere questi valori, questi valori veri. Però questo sta a voi a dirlo, non sarò io a dirlo. Sì, ma tu quando inserisci dei tuoi video, delle tue immagini, delle tue storie, che criteri utilizzi? Cioè che via segui? Ti censuri su certe cose? Decidi che cosa scrivere, cosa non scrivere? Come lavori da questo punto di vista proprio sull'elaborazione dei contenuti intendo? Allora sono molto severa dal punto di vista, cioè non dico mai dove vado, il luogo, la cima e per una scelta un po' secondo me i social negli ultimi anni hanno rovinato tanti luoghi nel mondo perché, ma non parlo solo delle montagne, parlo anche di luoghi di mare o molto turistici, molto conosciuti e sono stati rovinati proprio dal turismo di massa e quindi soprattutto nelle Dolomiti ci sono luoghi veramente, secondo me, rovinati proprio da questo turismo che arriva ad agosto. È una cosa secondo me inconcepibile perché un territorio come le Dolomiti, adesso faccio l'esempio delle Dolomiti perché è appunto l'esempio del turismo di massa, cioè è inconcepibile che solo al lago di Braes in una mattina ci siano più di quattromila persone, cioè per me è una cosa inconcepibile, quindi appunto bisogna... Più di quattromila persone. Sì sì, magari anche di più e quindi appunto ho preso questa decisione di non svelare i luoghi, però nel libro assolutamente ho voluto inserire i luoghi che più adoro della mia zona proprio perché secondo me un lettore o comunque chi compra un libro è una persona che veramente si interessa a quell'argomento e quindi si prende il tempo, legge le pagine, conosce magari me che sono nata in quel posto e quindi racconto un po' anche la storia di quel posto e quindi volentieri gli consiglio degli itinerari da fare perché una persona che fa questo percorso, compra un libro, non è sicuramente una persona che vuole andare in quella determinata cima e rovinarla, cioè non credo, quindi assolutamente ho voluto regalare questi itinerari con molto piacere. Infatti è un aspetto che impreziosisce sicuramente il libro perché c'è all'inizio una cartina come potete vedere con tutte le cime e le gite che consigli, che sono tante effettivamente, perché hai fatto questa scelta? Per quello che dicevi prima? Cioè per poter far calare le persone e dare questa possibilità? Questa scelta, beh, io mi immagino magari domani vado a fare un viaggio in un luogo lontano da casa e spesso ci chiediamo ma cavoli che libro posso comprare per conoscere bene quel posto, no? Invece è sempre bello magari avere un libro di una persona che è nata in quel posto e ti consiglio dove andare perché spesso nelle guide ti mettono magari i posti più conosciuti e invece la persona del posto ti consiglia proprio quel posticino che non conosce nessuno e quindi è ancora più speciale. Quindi questi posti sono molto speciali. Ce n'è uno in particolare che è più speciale di altri? Eh sì, assolutamente, sono tutti molto speciali però c'è una cima che si chiama Rötenspitz in tedesco, cima rossa e non so se non è questa foto, perché io non ho visto le foto qua dietro comunque... Puoi vederle lì. Ah ok. Vabbè è una cima molto bella e la raggiungo spesso con le pelli e non c'è una croce su ma c'è una specie di casetta costruita con le pietre e ecco esattamente questa. C'è una vista spettacolare, poi soprattutto l'anno scorso non solo in questa zona ma da noi è venuta un sacco di neve e è stato un sogno perché quest'anno purtroppo la neve è mancata, anche qua parlandone. E quindi la vista è stata una cima fantastica, ecco. Ci si mette circa quattro orette per salire però poi il panorama è molto affiato. Guardando le foto mi rendevo conto che hai una predilezione per l'inverno o sbaglio? Perché la maggior parte sono immagini di gite. Direi di sì ma quest'anno è stata una delusione. L'inverno era partito anche bene perché è venuta verso adesso non so se era novembre o già dicembre una nevicata e quindi ero partita anche molto positiva. Ho detto anche quest'inverno sarà indimenticabile invece proprio zero purtroppo e quindi ti devi anche adattare a questo e se l'inverno non nevica per fortuna esistono anche altri spazi. Mi sono messa a correre a febbraio quindi direi che si può fare anche senza l'uscita d'alpinismo. Senti una cosa che ho trovato molto interessante è il capitolo sull'Alto Adige e su questa tua terra che è una terra molto particolare che è un miscuglio di culture diverse che è una storia anche abbastanza una storia recente anche abbastanza tormentata. Come mai hai scelto di parlarne in modo così puntuale? Come ho detto prima la storia di un luogo è molto importante perché appunto anche semplicemente se venite in Alto Adige e magari non conoscete il luogo la prima cosa che noterete è ma qua non mi parla in italiano, ma qui non sanno l'italiano e siamo in Italia. Questi sono i classici commenti di uno che magari non conosce bene la storia e quindi assolutamente la storia di un luogo va conosciuta proprio per evitare questi commenti un po' voi io li vedo un po' ignoranti ecco è come se venissi qui e dicessi qualcosa che a voi magari dà fastidio perché appunto magari non conosco la storia e quindi appunto l'Alto Adige è una provincia trilingue non bilingue, parliamo tedesco che non è neanche tedesco un dialetto, ladino in alcune valli e italiano. A scuola diciamo chi parla italiano a casa insomma ma della lingua italiana a scuola studierà il tedesco mentre chi parla il tedesco studierà a scuola l'italiano quindi comunque diciamo la pronuncia rimarrà sempre un po' straniera anche quando io parlo tedesco si sente che sono italiana quindi è un po' alla Messner no? Esatto, non ci siamo capiti. Tanto per rimanere in tema. E quindi il bello è anche accettare questa diversità no? Già ci sono molte difficoltà nella mia provincia proprio il fatto di non unire queste culture però secondo me stiamo migliorando anche in questo e sempre più diciamo ragazzini stanno diventando dei bilingui perfetti quindi questo secondo me sarà un aiuto per evitare commenti di questo tipo ecco. Sì mi ha molto colpito quando racconti che in quarta in quarta liceo anziché andare all'estero hai deciso di rimanere lì e di andare nel liceo tedesco. Esatto, ho fatto l'anno all'estero. In casa. Nella mia città. Nella tua città. Esatto. E come è stato? Che cosa ti ha fatto capire e comprendere? Ho scoperto che nella mia stessa città esiste un gruppo linguistico che non frequentavo perché appunto gli italiani e il gruppo di lingua tedesca sono un po'... Sono separati. Sì purtroppo sì o diciamo c'è un contesto dove c'è una persona bilingue quindi interagisce perfettamente con entrambi i gruppi se no è molto difficile però appunto la situazione sta migliorando e i giovani di adesso soprattutto secondo me grazie ai social sono molto più aperti alle altre culture ma credo che questo sia un problema un po' di confine quindi in ogni posto di confine ci sia un po' questo problema linguistico ma problema io non lo vedo neanche come un problema ecco è semplicemente una lingua diversa e quindi magari non comunicare con l'altro perché magari non si conosce l'altra lingua ecco. Ma fate proprio vite diverse o comunque la montagna vi dà occasione di incontro? No assolutamente facciamo vite molto simili in realtà solo che anche le scuole sono separate però appunto questo anno all'estero più che imparare l'altra lingua è servito più per conoscere gli altri gruppi quindi per integrarmi negli altri gruppi quindi io poi sono anche rimasta ho molti amici di lingua tedesca quindi li frequento anche però mi accorgo che non tutti insomma hanno la voglia un po' di aprirsi ecco c'è c'è una una come dire una una chiusura un po' un po' su se stessi forse perché ci si sente più protetti no dentro un gruppo in cui non si mettono in discussione le proprie certezze probabilmente quello sì 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 però io sono positiva e le nuove generazioni sicuramente saranno molto più aperte di noi sì che già sono abbastanza giovani cioè la tua generazione parli già comunque di gente comunque giovane figuriamoci i vecchi alpinisti a te è capitato di conoscere qualcuno dei grandi alpinisti al tuo tesini penso Christoph Heinz per esempio Reinhold Mezner Reinhold Mezner assolutamente mi è sempre piaciuto ho letto anche i suoi libri poi mio nonno mi ha sempre raccontato diciamo soprattutto le storie di Reinhold Mezner e sono cresciuta con mio nonno che mi raccontava appunto le avventure di Reinhold Mezner del fratello quindi c'è fanno parte della mitologia locale esatto esatto sì sì assolutamente e quindi anche Reinhold è stato un esempio cioè l'ho sempre visto come diciamo un idolo ma appunto non mi ha mai ispirato così tanto quel mondo dell'alpinismo soprattutto di alta montagna ecco però appunto come lui ha sempre ragionato come ha rispettato sempre la montagna mi è piaciuto un sacco e tuttora viva Reinhold senti ma quindi dici l'alta montagna non mi ha mai interessato perciò tu sei più per una montagna accessibile fruibile senza dover sviluppare delle capacità tecniche particolari o superlative cioè quella montagna che è un po' per tutti secondo me come dicevo prima in ogni caso bisogna essere preparati cioè un minimo bisogna conoscere quindi appunto andare a rampicare conoscere appunto quei nodi quei classici nodi sapere cosa fare in una determinata situazione nel senso se si va magari con un amico in montagna e magari succede qualcosa bisogna essere in grado di capire cosa fare anche se si è in una montagna cioè non è che bisogna scalare il K2 per incontrare il pericolo e quindi sempre io metterei soprattutto i corsi quelli di base insomma un po' obbligatori per tutti insomma sarebbe bello tu stessa mi dicevi prima che stai frequentando corsi per diventare guida escursionistica sì esatto questa è la novità e appunto perché è sempre stato un mio sogno poter portare la gente a conoscere appunto le mie montagne e quindi appunto bisogna fare dei corsi bisogna essere abilitati a farlo e quindi appena finirò potrò fare queste cose potrei portare in giro le persone e raccontare mille cose assolutamente senti ma invece tutta questa parte legata ai social, a Instagram c'è, ci deve essere dietro una capacità di fotografare di cogliere con l'immagine i momenti ti sei formata oppure hai imparato sul campo così man mano facendolo? sì mi sono formata nel senso che ho fatto un percorso artistico liceo e lì ho conosciuto ho capito che la fotografia era la mia più grande passione infatti ho lavorato anche tanti anni come fotografa e quindi da lì arriva questa mia passione per le fotografie all'inizio facevo proprio foto, molte foto paesaggistiche e poi ho iniziato appunto a fotografare quello che facevo proprio perché avevo capito che era interessante mostrare agli altri un po' della mia vita non personale, non ho mai fatto vedere faccio vedere poco della mia vita personale più che altro mostro quello che faccio, quello che raggiungo e appunto la fotografia questo saper utilizzare magari le immagini mi ha aiutato molto soprattutto nel mondo social perché le immagini sono molto importanti e quindi ne parlavo proprio l'altro giorno con degli amici che dicevamo appunto che un percorso anche diciamo per allenare diciamo l'occhio e quindi capire un po' il linguaggio dei social perché cavoli stiamo circondati dalle immagini e quindi avere anche una capacità di capire se una foto è scattata che ne so con una determinata macchina o con il telefono oppure ha un filtro o non ha un filtro poi soprattutto sui social io ne parlo anche molto sul mio profilo di questo problema proprio di mettersi questi filtri in faccia e di togliere i lineamenti naturali e questo mi fa tanta paura e anche perché stiamo andando in questa direzione un po' dove non riusciamo più ad apprezzare la semplicità non riusciamo più ad accettarci e ci nascondiamo sempre di più dietro questi filtri io cerco di tutti i giorni di evitare questo e di mostrare il vero è il vero che l'autenticità delle cose che alla fine è la cosa più bella che possa esistere perché alla fine se tutti iniziamo a metterci questi filtri iniziamo a diventare tutti delle marionette tutti uguali invece l'autenticità è quella cosa che ti fa andare avanti in qualche modo quindi poi non so voi cosa ne pensate di questa tematica che secondo me è molto importante anche da c'è a parlarne sì certo sicuro tu chiami autenticità quindi anche la capacità di non cioè di distinguere tra ciò che è reale e ciò che non lo è oggi siamo molto su questo filo anche su altre questioni molto molto gravi che ci stanno circondando rischiamo di di non poter più distinguere di credere a ciò che ci viene mostrato magari anche ingenuamente e invece dietro c'è una manipolazione quindi tu ti cioè è vero che tu comunque parli di un di una materia che è il bello il tempo libero l'aspetto di fare le cose con passione quindi non c'è una tragicità dietro quello che racconti però immagino che ci sia un pensiero su come su come proporlo e poi la montagna insegna anche questo secondo me perché nella montagna in montagna è impossibile essere perfetti io parlo in modo estetico è per quello smaschera tutti è quello il bello della montagna ah beh c'è ritorni ritorna al naturale ritorna alla semplicità la semplicità la semplicità di tutti e quindi io apprezzo apprezzo queste cose soprattutto quando vado in montagna magari con amici e anche nel libro dico che spesso vado in montagna massimo con tre persone e mi accorgo proprio che il percorso per arrivare alla cima o anche a rifugio è un percorso molto personale molto dove la persona appunto che accompagno o che mi accompagna inizia ad aprirsi a parlare a svuotarsi di tutte le frustrazioni della vita e una volta arrivati in cima tutto è così leggero però poi quando si ritorna a valle ritornano i pensieri negativi la routine il lavoro quindi la montagna è proprio questa magica è speciale in tutti i sensi per questo che poi non vuoi più scendere mi interessava ancora continuare un secondo questa riflessione sui social che rapporto hai con i tuoi con chi ti segue perché di fatto tu hai hai costruito un po' tutta la tua il tuo percorso professionale parte da da instagram e quindi come come è andato è andato creandosi questo rapporto beh e allora questi followers che chiamiamo sono persone quindi dietro anche ai profili che mi seguono ci sono persone e io me ne accorgo tutti i giorni perché ricevo messaggi ricevo commenti e spesso anche vi incontro sulle cime e io rimango sempre molto positiva perché siete persone così umili così abbiamo pensieri così simili e quindi dico cavoli se sono riuscita ad attrarre a portare in questo profilo che ho creato persone così belle ho vinto nel senso che sono riuscita a comunicare davvero bene insomma quindi sono anche felice di tutto il lavoro che ho fatto e anche per questo il motivo che sta facendo questo corso proprio per incontrare queste persone e creare qualcosa di bello tutti insieme beh in questo caso sarà un un rapporto molto fisico invece eh sì assolutamente non più virtuale e ne abbiamo anche bisogno no senti ma tua madre che cosa dice visto che l'hai citata molto spesso all'inizio come con lei che veniva vi spronava vi portava come la tua famiglia cioè i tuoi tuoi fratelli tua madre che cosa rispetto a questo lavoro rispetto a questo lavoro che stai facendo all'inizio erano molto scetiche ovviamente come tutte le cose ma vabbè ancora adesso non si conosce bene questo mondo però appunto dicevo ma non capiva insomma però invece adesso mi sostiene anche lei ha instagram cioè pure mia nonna ha instagram mi segue mi chiama Petro devo metterti like quindi cioè dico se mia nonna capisce è riuscita a capire il meccanismo di instagram nessuno ha più scuse insomma c'era c'era una cosa che mi girava per la testa prima volevo chiederti adesso mi è mi è come è come svanita però ecco mi interessava sapere come sei arrivata poi alla scrittura di un libro perché dalle immagini queste queste storie brevissime quasi flash e poi invece hai hai pensato e hai cioè questo libro ha una sua struttura è molto è tutt'altro che che minimale è assolutamente anzi capitoli in cui affronti veramente in modo approfondito poi sono anche hai anche vari sottotesti insieme alle foto cioè come se parlassi su vari livelli è un libro ben strutturato sì adesso vi racconto proprio apertamente un anno e mezzo fa anche di più e proprio la direttrice di Rizzoli mi ricordo che mi aveva scritto su Instagram su Facebook ma io pensavo fosse un un messaggio fake cioè di qualcuno che mi voleva dire cioè vendere magari a caso un lavoro e quindi lo eliminavo proprio come commento dicevo basta questo qua vuole fregarmi e invece poi mi aveva scritto anche una mail e mi fa Peter guarda che sono davvero sono vera sì sono vera e quindi niente poi ci siamo sentite anche al telefono perché gli ho detto guarda non ci credo fino all'ultimo chiamiamoci a questo punto ah vedi che anche tu fai ricorso agli antichi metodi quindi state attenti non si sa mai e mi ha proposto appunto di scrivere un libro lei era già una che mi seguiva da tempo all'inizio io gli avevo risposto ma io un libro in che senso cioè non capivo un po' il senso di questa cosa e poi alla fine cioè mi sono fidata di lei anche perché era il suo lavoro quindi è venuta a trovarti in Alto Ades quello non ancora però poi alla fine è stato un percorso davvero utile anche per me stessa perché a scrivere questo libro mi sono proprio mi sono svuotata mi sono aperta e ho raccontato tante cose personali e quindi è stato proprio un percorso un po' psicologico secondo me e è durato un anno e è stata davvero un'esperienza molto bella molto positiva e poi alla fine la scaletta mi è subito cioè non ho avuto tanti dubbi e tanti problemi a metterla giù e ce l'avevo già in mente avevo già proprio in testa come lo volevo come lo volevo strutturare e alla fine non è stato difficile proprio perché ho raccontato me stessa cioè non posso inventarmi niente è la mia vita e quindi ho raccontato anche i miei pensieri personali e poi vabbè la storia dell'Alto Adige e anche le leggende della mia terra quindi è stato proprio un percorso un po' evolutivo infatti nel libro ci sono anche questi itinerari appunto che ho voluto mettere in questo ordine proprio per come se fosse un percorso proprio e quindi è stato davvero bello per me e spero possa essere un regalo anche per voi sicuramente la casa editrice ti ha ti ha dato una mano nel così nell'impaginazione grafica e sono stati davvero bravissimi poi era durante anche il abbiamo avuto un lockdown penso secondo lockdown adesso non mi ricordo però appunto anche per quello è stato utile perché appunto eravamo tutti in casa tutti molto nemmeno tu che dici che vivi in un busco però le regole vanno rispettate comunque sì sì abito in mezzo al nulla ma ovviamente si passa si passano a controllare poi meglio evitare poi pare che in montagna i controlli fossero quasi più severi che in città sì sì poi non so qui da noi la notte ma adesso il primo lockdown ancora vedevi proprio nel bosco la gente con la frontale uno dietro l'altro ma dove vanno a farsi la passeggiata penso anche qui era l'unica eh sì in collina soprattutto esatto c'era un sacco di gente non avevi mai vista così tanta gente esatto popolare i sentieri della collina torinese perché si poteva fare sport tutti che hanno iniziato a fare sport vedevi gente che faceva un sacco di chilometri a fare sport Grazie a tutti